Dopo Padula il Codacons Vallo di Diano riapre il caso Infiteusi anche a Sala Consilina. Nel luglio scorso infatti il Comune ha approvato il regolamento per la francazione di livelli, cenzi ed Infiteusi. Quest'ultimo è un contratto agrario risalente agli inizi del Novecento in base al quale i cittadini possono godere di un fondo di proprietà comunale e in cambio devono provvedere alla cura dello stesso e al pagamento di un canone annuo. Un tributo che pure se esistito da tempo fino ad oggi non era mai stato riscosso e invece fa sapere il Codacons Vallo di Diano proprio in questo periodo stanno arrivando nelle case di alcuni cittadini di Sala, per lo più agricoltori, proprio le richieste di pagamento dei canoni anfiteutici o di converso quelle dovute per l'affrancamento del terreno. Le amministrazioni comunali possono richiedere il pagamento degli arretrati ma non possono andare indietro più di cinque anni per cui le bollette fanno riferimento proprio all'ultimo quinquennio e secondo il Codacons questo sarebbe un modo di fare cassa assolutamente da evitare in questi tempi di crisi economica, tanto più che molti cittadini hanno acquistato o si sono ritrovati tali terreni senza neppure sapere che vi erano sopra questi oneri. Roberto De Luca, responsabile del Codacons, aveva già ottenuto dopo una battaglia condotta negli ultimi mesi del 2014 a Padula che l'azione amministrativa venisse sospesa in attesa di definirla meglio in Consiglio Comunale, accogliendo le varie stanze degli interessati. Ora torna alla carica su Sala Consilina. I cittadini sono chiamati ad affrontare spese non banali e ad assolvere compiti burocratici eccessivi per una semplice affrancazione, dice De Luca, e poi affonda con ironia circa la natura antica di tale tributo. Anche lo Ius Prime Noctis era adottato nel Medioevo, i cittadini si ritengano avvisati. Ma il sindaco Francesco Cavallone replica, i diritti dei cittadini si fanno rispettare anche facendo rispettare i diritti del Comune. Il canone è irrisorio perché venne stabilito quando c'era ancora la lira. L'affrancamento è più consistente, ma uno è libero anche di non farlo. L'enfiteusi è comunque un istituto stabilito dal Codice Civile. L'ente sta solo iniziando ad esercitare i propri diritti. In questo momento di difficoltà anche per il Comune, conclude Cavallone, mi sembra meno grave e più giusto chiedere il dovuto ad una parte dei cittadini che imporre una nuova tassa a tutti.